Allora, il progetto voi lo conoscete, stiamo realizzando questo murales che è appunto dedicato a voi, a voi, al quartiere. Ci aiuterete, ci aiuterete col vostro intervento, io farò il disegno base e voi poi mi aiuterete. Poi io vi preparo un'altra parte del disegno e continueremo questa collaborazione. L'avete capito il senso del disegno? Pensate che può essere d'aiuto? Siamo qui a Via Venafro, al centro Caritas, dove si sta realizzando il murales dal titolo Piove, Essere Amore. Grazie a Arti Street, che è stato il nostro sponsor, la Caritas, che ci ha permesso di realizzare questo murales, siamo qui con l'aiuto anche dei ragazzi del centro a realizzarlo. Be Love vuol dire essere amore. Essere amore è il tentativo di entrare in comunicazione con il quartiere, ma lanciare il messaggio che vivendo d'amore tutto è possibile. l'accettazione dell'altro, il costruire qualcosa di positivo in una società che è difficile e il tentativo anche di fare accettare la realtà dei ragazzi che qui vengono ospitati e con l'amore riusciamo a piacare quelle che sono le difficoltà e a rendere possibile una vita migliore a tutti. di tre sono operativi, che gli do il colore, il pennello e il pastore. C'è il spazio per fare altro. C'è il compagno di curare e sponso questo progetto che la Caritas Associazione sta facendo un lavoro fantastico nel mondo e mi piace produrare progetti che incontrano la connessione humana e la cambiazione sociale positiva e questo è incredibile che ci sta dicendo alla comunità e ai loro bambini. Sono molto felice di fare questo.